E' tempesta di ricorsi e solleciti dopo che la Regione Puglia ha bloccato sulla porta 24 aziende leccesi non ammessa il trattamento della Cassa Integrazione Inderoga per il 2012. L'elenco è lungo, le aziende provengono dai settori più diversi, le motivazioni alla base del respingimento delle loro richieste di ammortizzatori sociali sono le più disparate. Una lista complessa pubblicata sul bollettino della Regione Puglia dello scorso 21 marzo. In questi giorni le imprese stanno annaspando nel tentativo di uscire dal Guado. A rimanere impigliati nel groviglio burocratico infatti rischiano di essere ben 183 lavoratori soli in provincia di Lecce ai quali si aggiungono i dipendenti di 28 aziende tarantine di 9 brignisine. Numeri che si sommano a quelli delle aziende a cui la Cassa è stata persino revocata. In provincia di Lecce è il caso noto della stessa associazione degli industriali per i suoi sette dipendenti. La CGL è a lavoro per cercare di virare la rotta premendo sugli uffici baresi perché facciano in fretta. Quattro richieste di riesame immediato sono già partite. Per il momento solo due di queste hanno trovato risposte e le società sono state riammesse al godimento dell'ammortizzatore sociale. Sono tra l'altro proprio i casi più eclatanti. Testiltec di Caserano e Newlat di Lecce. La prima con 40 dipendenti, la seconda con 12. Tutte le altre potrebbero invece non riuscire ad uscire indenni dalle forche caudine delle verifiche che a posteriori ha effettuato la Regione. Il controllo infatti non è sulle nuove domande di ammissione alla Cassa per il 2013, bensì sulle vecchie richieste che dovrebbero coprire un periodo che va da maggio a dicembre 2012. Dunque, oltre al danno, la beffa. Oltre ai ritardi e alle mancate erogazioni, per i restanti 132 lavoratori leccesi la prospettiva potrebbe essere quella di rimanere a bocca asciutta. Anzi, se hanno già percepito alcune mensilità, il paradosso sarebbe quello di dover chiedere a loro la restituzione delle somme incassate. Sarebbe assurdo, dicono della CGL, comunque non lo permetteremo. Al massimo a pagare dovrebbero essere le aziende. Anche perché qui si tratta quasi sempre di motivazioni più formali che sostanziali. Dall'antinfortunistica generale di Lecce alla Blue Cup siderurgica di Muro, dal Centro Ricerche Biochimiche di Gallipoli alla Duri Plastic di Salice, finale di tunnel, fibrover cooperativa, la FIMAC di Matino, l'Istituto per l'Economia del Salento, solo per citare quelle più rappresentative, le contestazioni di Via Capruzzi riguardano l'incompletezza della documentazione, dei verbali sottoscritti in provincia, ad esempio, della fruizione dei periodi di ferie dei dipendenti. C'è chi non è stata dichiarata ammessa perché addirittura non ha allegato la marca da bollo. Dimenticanze, vuoti cartacei che rischiano di tramutarsi però in macigni sociali, visto che l'Inps adesso non è più autorizzata a derogare loro il trattamento di cassa integrazione in deroga.